In fondo al primo binario della stazione di Crema non è raro trovare cocci di bottiglie e sigarette, ma la situazione sta degenerando. I cittadini hanno segnalato la presenza di diversi soggetti ubriachi che passano le loro serate nel piccolo cantiere, accanto alla stazione tra alcol e musica, a discapito non solo della quiete e della sicurezza dei pendolari, ma anche degli operai che ogni giorno devono pulire l'ambiente per poter lavorare in tranquillità. Purtroppo nell'area di cantiere vicina ai binari, spesso, soprattutto in un orario serale, ci sono delle persone che si capisce non stanno aspettando il treno, ma in realtà spesso hanno alcol, musica alta e quindi c'è un poco di degrado. Quello che noi chiediamo all'amministrazione è di dare mandato alle forze di polizia affinché nessuna zona di Crema, quindi nemmeno qui in stazione, si possa creare una nicchia di illegalità che andrebbe poi a svantaggio di tutti i cittadini. Qualche tempo fa il Comune di Crema, il Consiglio Comunale, ha approvato l'istituzione di una commissione di sicurezza che è stata convocata due volte. Noi chiediamo ancora una volta la convocazione di questa commissione per poter confrontarci all'interno del Consiglio Comunale su quali sono i maggiori luoghi che potrebbero diventare nicchia di illegalità e insicurezza all'interno di Crema. Una situazione che potrebbe venire scoraggiata grazie ai controlli delle forze dell'ordine e che garantirebbe più serenità anche ai genitori degli studenti che frequentano le scuole nei pressi della stazione.